Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla Mezzia in compagnia di Laura Fazzari che è candidata a plurinominale nel Collegio Calabria 2, se non sbaglio, giusto? Esatto. Perfetto, io ti volevo chiedere innanzitutto per quale lista sei candidata, anche se già lo sappiamo che è potere al popolo. Perfetto, darci qualche informazione in merito alle battaglie che si prefigge di portare avanti proprio la tua lista e di quello che state facendo attualmente sul territorio per vedere dei riscontri visto che il 4 marzo è vicino. Allora, io sono candidata con Poter al Popolo che attualmente è l'unica lista di sinistra, l'unica possibilità per questo 4 marzo. Per chi l'unica possibilità? Per chi come noi crede in un mondo più giusto, senza discriminazioni, senza sfruttamento. Poter al Popolo ha un'esigenza immediata, a prescindere dal risultato del 4 marzo, che è quello di continuare a lottare sui propri territori. È una lista che nasce di recente, da nemmeno due mesi, ma che in realtà ha aggregato una serie di realtà che sono presenti da anni nei propri territori e che da anni lottano sui territori stessi. A livello politico il primo obiettivo è quello dell'abolizione del job ax e l'abolizione della legge Fornero. Serve immediatamente una manovra economica che permetta di dare lavoro e di dare stabilità. E senza l'abolizione di queste due misure non si può proprio ripensare la politica. Successivamente bisognerà iniziare a riparlare di diritti, perché sono anni che continuano a dirci che c'è una crisi, una crisi economica che però pagano soltanto i cittadini. E questa crisi però l'hanno causata loro, cioè non è una calamità naturale. Quindi perché poterà il popolo? Perché siamo stanchi e perché ora che chi non è cresciuto come noi, tra poltrone e privilegi, ma si è sempre occupato della propria terra, si preoccupi adesso di servire la politica e non di servirsi della politica come hanno fatto fino adesso. Perfetto, ti faccio una domanda. Visto che parlavi di diritti, siete una delle poche liste che parlano di matrimonio ugualitario. Tutte le altre schivano la pallottola del matrimonio ugualitario. Alcuni addirittura non hanno messo proprio nel programma nemmeno un diritto, quanto qualcosa che abbia a che fare con la comunità LGBTQIA. Voi invece siete gli unici che a tutto tondo vi rivolgete alla persona in quanto essere umano e quindi parlate veramente dell'uguaglianza dinanzi alla legge. Sì, perché a noi non ci interessa parlare alla pancia delle persone. In questo momento parlare di matrimonio ugualitario qualcuno pensa che sicuramente è un argomento che farà perdere voti. Ebbene, a noi ci interessa stare dalla parte di chi fa il giusto, non dalla parte che parlando alla pancia degli italiani continua a raccogliere voti su argomenti sbagliati. Inoltre, un'altra cosa molto importante, c'è chi come Salvini, quindi la Lega, Fratelli d'Italia, fanno terrorismo mediatico sul problema, una parola che dovremmo mettere in fricoletta, dei migranti, quando invece ci sono delle concrete potenzialità che invece i migranti non solo debbano essere accolti ma possono essere addirittura la speranza per risollevare un paese che è vecchio come l'Italia. Benissimo, ci parlano tantissimo di sicurezza. In nome della sicurezza continuano a calpestare tutti i nostri diritti, ci dicono che la colpa è del migrante, la colpa è sempre del diverso. In realtà le indagini statistiche ci dicono che in Italia negli ultimi anni la sicurezza cresce sempre di più, che il problema dei migranti non è assolutamente un problema di sicurezza, anzi, semmai, ma si penserà alle dichiarazioni che fa il presidente dell'Inps, che voglio dire di tutta una persona, tranne una persona che possiamo definire dei nostri, che dice che senza i migranti il sistema pensionistico crollerebbe. Queste sono quelle informazioni che ovviamente non fanno passare, perché appunto non sono quelle informazioni con le quali si racimulano facilmente voti, ma noi pensiamo che i migranti siano innanzitutto una risorsa. Ma come dire, primariamente pensiamo che la nostra deve essere una terra accogliente, lo è sempre stato, siamo stati una terra a crocevie di popoli e di culture da sempre e non vediamo perché dovremmo smettere proprio adesso. Tu, a differenza di molte altre persone che, diciamo, sono un po' preorganizzate, anche come spot elettorali, ne vediamo tantissimi in questi giorni che sembrano proprio confezionati stile Mullino Bianco. Pensiamo invece a te, che sei invece una di noi, come si dice, una del popolo. Lancia un messaggio alle persone giovani come te, ma soprattutto lancia un messaggio agli indecisi. Quando andrete a votare il 4 marzo, ricordatevi delle persone che hanno precarizzato il lavoro, svilitto l'istruzione, hanno distrutto la sanità e hanno inquinato i nostri territori. Quelle persone hanno dei nomi e dei cognomi. I loro sono i responsabili della crisi che stiamo vivendo e sono esattamente tutti i partiti, da destra e sinistra, che in questi anni hanno governato il nostro Paese, attuando delle politiche neoliberiste che tutto hanno avuto a che fare, tranne che con la tutela dei diritti. Per questo motivo vota potere al popolo, che effettivamente nasce dal basso, come dicevi prima, ed è un'esperienza di mutualismo e di solidarietà. E a prescindere dal risultato del 4 marzo c'è una certezza. Ci ritroverete dove siamo sempre stati, a lottare nei nostri territori. Riccardo Cristiano, Liberi TV, La Mesa Terme. Grazie a tutti.